Musica Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. I finanzieri di Macerata hanno sequestrato a Civitanova circa 3 kg di marijuana e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Una cinquantenne alla guida della sua autovettura è stata fermata per il suo fare sospetto e la successiva perquisizione domiciliare. Ha portato al ritrovamento in un garage della droga contenuta in sei sacchetti di plastica. La donna, già nota le forze dell'ordine, è stata denunciata. Un incidente stradale è avvenuto ieri sera dopo le 21 sulla salaria alle porte di Ascoli Piceno. Si sono scontrate frontalmente due autovetture per cause al vaglio degli inquirenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte che sono state tutte trasportate al pronto soccorso, seppure in condizioni che non destavano particolari preoccupazioni. E torniamo nel pozzo dell'orrore di Porto Recanati. Vicino all'hotel house sono spuntati altri resti umani, ma si scava ancora. Sentiamo Manolita Scocco. Terzo giorno di scavi e di ricerche nel Pozzo degli Orrori a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati, vicino al casolare dove mercoledì sono stati trovati una ventina di pezzi di resti di almeno due persone, tra ossa intere e frammentate, spuntamentate, oltre a effetti personali, alcuni dei quali forse appartenenti a Kamei Mossameh, una quindicenne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010. La procura indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Le ricerche, che oggi non hanno dato esito, sono comunque proseguite per tutta la giornata. Gli uomini della Polizia Scientifica e della Mobile, guidata da Alessandro Albini, sono arrivati a cercare fino a una profondità di tre metri e mezzo nel pozzo situato nei pressi dell'Hotel House, il notissimo condominio multietnico dove vivono oltre duemila persone, al centro di indagini per spaccio di droga. I resti verranno esaminati dagli esperti della Polizia per le comparazioni genetiche, indispensabili per identificare i cadaveri. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei luoghi di scavo. E veniamo alle indagini sull'omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana massacrata e fatta a pezzi il 30 gennaio scorso a Macerata. Stando ad alcune indiscrezioni, la perizia dei RIS confermerebbe che nell'attico di via Spalato si sarebbe trovato soltanto innocent o segale e non anche i suoi due connazionali nigeriani, attualmente in carcere tra Ascoli ed Ancona. In comune l'accusa di omicidio in concorso, occultamento e vilipendio di cadavere. Sviluppi sono comunque attesi nei prossimi giorni. Cambiamo decisamente argomento. Pasqua e lunedì dell'angelo con il sole nelle marche. Condizioni meteo in linea con la stagione primaverile per queste festività, con temperature comprese tra i 5 e i 18 gradi un po' in tutta la regione. Qualche debole pioggia solo nella nottata tra venerdì e sabato, poi generali schiarite che preluderanno a due giornate di sole per le tradizionali gite fuori porta. Dal 24 agosto 2016 a oggi nelle marche sono state rimosse 360 mila tonnellate di macerie provocate dal terremoto che ha sconvolto due anni fa parte del centro Italia. Lo ha riferito il presidente della regione Luca Ceriscioli durante una visita ieri nelle zone terremotate di Arquata del Tronto, dove è stato completato il recupero delle macerie del centro storico. Sentiamo l'intervista. Un punto importante perché la gestione delle macerie è un tema collegato a tutto il percorso di costruzione. Già dal mese di dicembre è stato fatto il primo passo importante, ovvero l'eliminazione delle macerie in strada, che sono quelle che possono impedire l'accesso ai lavori. Adesso si procede con le macerie da demolizione. Siamo arrivati a 360 mila tonnellate, tre volte e mezzo quello che l'Aquila fece in un periodo più lungo, nei primi due anni, non sono passati neanche i primi due, già siamo a quota importante. Un dato estremamente significativo è che 310 mila tonnellate di quelle raccolte sono già state riutilizzate. Significa che l'impostazione che non ha accantonato in un'area le macerie per poi trattare a distanza di anni e non utilizzarle, che hanno fatto altre realtà, non è stata la nostra scelta, l'abbiamo scelto invece di trattarle subito e questo l'ha già rimesso in circolo e permette a tutta la macchina di lavorare con grande qualità. Il lavoro svolto ha già visto liberati tanti comuni che hanno completato il 100% della macerie. Ci vede ridurre la quantità prevista complessiva che era stimata in un milione e 150 mila tonnellate, ridotta a un milione di tonnellate e quindi ne rimangono oggi stimate sempre 640 mila da raccogliere, una capacità oggi di smaltimento molto forte. Tante dati che ci confortano sul lavoro svolto, sulla qualità con cui viene fatto e sul fatto che già da oggi tutti i percorsi sono liberi e quello che agiamo è dietro le ordinanze dei sindaci che in accordo con i proprietari decido di portare via la maceria. Quello che si vede, per esempio è capitato oggi, in realtà già completamente pulite sono quelle case vincolate dalla sovrintendenza che non si possono demolire o laddove il proprietario ha deciso di non demolire la propria casa perché vuole riutilizzare lo stesso materiale per ricostruirla. Quindi un grande sensibilità nei confronti dei luoghi, nel rispetto della storia e delle persone che vogliono giustamente vedere sulla loro casa. Quando si passa uno può immaginare se non è stata raccolta la maceria, no, lì non verrà mai raccolta perché il proprietario di quella maceria la vuole riutilizzare per fare la sua casa. Nel 2018 il Teatro Pergolesi di Iesi celebra i 220 anni della sua nascita e il cinquantesimo anniversario del riconoscimento del titolo di Teatro Lirico di Tradizione. Per il doppio anniversario la Fondazione Pergolesi Spontini ha presentato una proposta culturale diffusa sul territorio dove protagonista sarà la produzione lirica con il diciottesimo festival Pergolesi Spontini a settembre e la stagione lirica di tradizione che torna nella collocazione autunnale. Viaggio in Italia è il tema del festival Aiesi Maiolati Spontini e altre città della provincia di Ancona con opere, concerti e spettacoli di teatro musicale dal 1 al 30 settembre dopo un percorso off ad agosto ricco di jazz, vocalità popolare e spettacoli per famiglie. Due i titoli d'opera, il noce di Benevento e le metamorfosi di Pasquale di Spontini in coproduzione con la Fenice di Venezia. Ed oggi a Pesaro sono stati presentati i weekend gastronomici di primavera giunti alla 35esima edizione presso la sede della Confcommercio. Sentiamo. 35 anni portati benissimo, un traguardo che fa dei weekend gastronomici l'iniziativa della Confcommercio di Pesaro e Urbino, la più longeva e la più seguita nel settore della promozione turistica ed enogastronomica delle marche. E per festeggiare questo successo Confcommercio è voluta tornare a casa con i co-protagonisti che nel tempo hanno decretato la fortuna dell'iniziativa che negli anni, visto l'aumento delle adesioni, si è sdoppiata nell'edizione autunnale e come in questo caso primaverile. Dunque si parte con una nuova veste grafica che il direttore generale della Confcommercio Amerigo Varotti spiega così. Sì, ripartiamo al 7 aprile fino al 10 giugno, 35esima edizione, ormai sono l'evento più importante della gastronomia nella nostra regione, il più longevo. Ripartiamo con una vespa, una vespa rossa che oggi campeggia nella guida del nostro weekend gastronomico 2018. Questo logo rappresenta, significa quello che sono i weekend gastronomici per noi, una scoperta lenta del territorio, un viaggio alla scoperta della bellezza, la scoperta dei tanti beni culturali, la scoperta della ristorazione e dei prodotti tipici. Un viaggio che noi vogliamo proporre ai consumatori della nostra regione, ma anche ovviamente delle regioni vicine, che vogliamo proporre ai turisti per andare a scoprire un territorio ricco e tra i più belli d'Italia. 10.000 le copie stampate per questa edizione degli ormai famosi libretti menù, divenuti un vero e proprio oggetto cult, tanto che la Confcommercio ha allestito una mostra esposizione di tutte o quasi le edizioni. Una mostra che resterà a Pesaro fino al 7 aprile per poi essere portata in giro per la provincia nelle 16 sedi territoriali di Confcommercio. Ma non è tutto, perché sono state anche stampate due cartoline postali con la richiesta a poste italiane dell'annullo filatelico, con lo scopo di ricordare per sempre l'occasione. Per fermare il momento dei 35 anni abbiamo immaginato che l'annullo filatelico fosse importantissimo e per questo abbiamo anche concordato con poste italiane la ricerca di un francobollo che identificasse il nostro territorio e quindi abbiamo trovato e acquistato tutti i francobolli esistenti negli uffici postali d'Italia legati alla serie delle regioni, con la regione Marche ma soprattutto con i bronzi dorati di Pergola che identificano non solo la città di Pergola ma tutta la nostra regione e tutti i nostri entroterra. E siamo alla pagina sportiva odierna del calcio di Serie D abbiamo già ampiamente parlato relativamente al turno infrasettimanale ieri nel corso dell'appuntamento con le Marche nel pallone vi ricordo invece che domani sono in programma le gare della 33esima giornata del campionato di Serie C Girone B la fermana osserverà un turno di riposo in campo invece Fano e San Bredetese vediamo quali saranno gli impegni agonistici per le nostre squadre. La fermana si gode le festività pasquali in attesa di riprendere domenica 8 aprile il suo cammino verso la salvezza con il delicatissimo confronto interno con il Gubbio il Fano invece è probabilmente giunto allo snodo cruciale del suo campionato il doppio turno casalingo consecutivo domani alle 14.30 con un Albino Leffe in chiara difficoltà nel girone di ritorno e mercoledì 4 aprile nel recupero proprio con il Gubbio affidato da due settimane a Sandreani dall'occasione ai Granata di abbandonare finalmente l'ultimo posto della classifica che occupa da tempo immemorabile d'altronde diciamo spesso che l'attuale organico a disposizione di Mister Brevi con i vari Germinale, Fioretti, Lazzari, Fautario e gli altri ha le carte in regola per risalire la china ma è il momento di farlo altrimenti lo spauracchio play-out diventerebbe realtà con tutti i rischi che comporta alle 16.30 la San Benedettese riceve a Riviera delle Palme in Ravenna nulla di trascendentale se non fosse che di recenti romagnoli hanno messo a segno alcuni risultati importanti che li hanno fatti risalire sino ad una gradatoria tranquilla i rosso-blu sono a meno 8 dalla vetta occupata dal Padova ma debbono anzitutto difendere il preziosissimo secondo posto tornano anche a Ridita e Bacinovic anche se partiranno inizialmente dalla panchina poi per tutti la pausa pasquale prima del rush finale basket e volle in pieno fermento nella pallacanestro di Serie A1 la VL Pesaro con Massimo Galli in panchina al posto dell'esonerato Spiroleca giocherà domani alle 20.30 Varese con lo stesso roster a disposizione rispetto a sette giorni fa visto che Taylor Brown, il sostituto di Dallas Moore non potrà essere schierato in campo per il neocoach un appuntamento particolare visto che proprio nella città lombarda ha lasciato un'impronta importante in Serie A2 saranno circa 270 tifosi di Montegranaro che saliranno domani sera a Bologna al Paladozza per assistere all'incontro tra la Poderosa ed una Consulting Vest in Crisi i felsinei vengono infatti da tre sconfitte consecutive in uno dei templi della pallacanestro una sfida fondamentale per guadagnare la migliore posizione possibile per gli ormai certi play-off la termoforgia Iesi invece dopo l'esplac con Trieste giocherà stasera alle 20.30 a Brescia contro l'Orzi Nuovi, l'attuale fanalino di coda nella pallavolo domenica di Pasqua molto intensa gara 2 di semifinale play-off scudetto per la Lube a Modena dopo il tiratissimo Tebrec di mercoledì vincere al Palapanini vorrebbe dire ipotecare in una serie di tre gare su cinque la finalissima in A2 la Golden Plus Potenza Picena sempre alle 18 cerca la salvezza all'Eurosuole Forum con Taviano traguardo raggiunto in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 mentre con il 3-2 si andrebbe al Golden Set la Videx Grotta Zolina domani alle 18 negli ottavi di play-off riceve invece il Gioia del Colle bene io mi fermo qui vi ringrazio per la cortesa attenzione un caloroso e fervido augurio di buona Pasqua grazie a tutti